Buongiorno, buon venerdì 21 maggio, benvenuti alla rassegna stampa di Omnibus, tra poco la lettura dei giornali con le notizie più importanti oggi riportate dai quotidiani in edicola a partire dal varo del decreto sostegni bis, ieri il Premier Mario Draghi è entrato nel dettaglio appunto di questo provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri, una manovra da 40 miliardi tesa a dare sostegno a tutte le categorie che sono state colpite dalla pandemia, aiuti a imprese, giovani fondi che chiaramente andranno a supportare il Paese in senso lato, in questa fase di rilancio. Dichiarazioni anche di ottimismo da parte di Mario Draghi che guarda al futuro con la possibilità appunto che l'Italia possa ripartire in maniera sostanziosa e sostanziale, chiaramente si aspetta anche di ricevere i fondi del Recovery Fund che saranno poi il volano determinante per rilanciare l'economia italiana. Draghi si è soffermato anche sulla proposta di Letta, ma la vedremo tra poco sui giornali, quella di tassare con una patrimoniale le successioni da una certa cifra in su per aiutare i diciottenni. È arrivato il momento, è questo il momento di dare e non chiedere soldi ai cittadini la risposta del Premier. Ma sui giornali troviamo già anche la notizia importantissima della tregua sottoscritta da Israele e da Hamas che ha di fatto sancito il cessato e il fuoco in questa grave crisi medio orientale. Poi ovviamente tutto quello che concerne la pandemia con la conferma del calo dei dati per quanto riguarda i nuovi casi di positività e il raffronto tra una settimana all'altra. Partiamo dal Corriere della Sera, eccolo qui il titolo d'apertura, Draghi 40 miliardi per il futuro, sia il decreto sostegni bis e il blocco dei licenziamenti slitta il 28 agosto, ho trovato l'accordo sul Green Pass per viaggiare nella Unione Europea. Aiuti a imprese, giovani fondi dalla tassa di successione, Premier a Letta non è il momento. Il Premier ha risposto così al segretario del Partito Democratico che aveva appunto lanciato questa proposta nell'intervista che poi tra l'altro è all'interno del settimanale 7 in edicola assieme al Corriere della Sera. Leggiamo brevemente, via libera del Consiglio del Ministro del decreto sostegni, i lavori, i giovani, la sanità e il territorio. Per il Premier Mario Draghi è un provvedimento che guarda al futuro a un Paese che riapre e che punta a non lasciare indietro nessuno. Questo è un po' lo slogan usato da Mario Draghi. A disposizione ci sono 40 miliardi per indennizi sul caro del fatturato, delle partite IVA, pensioni mutui, ristori e concorsi veloci, stoppa i licenziamenti fino a fine agosto. Draghi chiude anche all'idea di Enrico Letta di aumentare la tassa di successione per destinare fondi ai giovani. Non è il momento. Su Green Pass per viaggiare in Europa trovato l'accordo. La notizia che è arrivata ieri pomeriggio da Bruxelles per l'accordo sulla Green Pass che consentirà gli spostamenti nell'ambito dei Paesi dell'Unione. Ancora dal Corriere della Sera, a proposito della pandemia, il dossier e le stime, ritorno alla vita normale, aggiungo ospedali liberi. Qui ci sono le percentuali, 53% le persone già immuni, 73% i casi alla settimana ogni 100 mila abitanti, 75% la quota immuni da raggiungere. Tra guariti e vaccinati, un italiano su due è immune, gli ospedali liberi da giugno e da settembre il ritorno alla vita normale. Questo è quello che ci auspichiamo tutti. A proposito di quello che dicevamo in apertura, Mass conferma tregua simultanea, Israele approva il cessato il fuoco. Dopo 11 giorni, il Consiglio di Sicurezza di Israele ha votato ieri il cessato il fuoco. Il governo di Netanyahu ha deciso di fermare i bombardamenti. I capi di Hamas confermano lo stop reciproco e simultaneo. Biden plaude alla tregua, tra l'altro rivolgendo un ringraziamento al presidente egiziano Al-Sisi che ha svolto l'opera di mediazione. Ancora dalla Corriere della Sera, una notizia che riguarda lo sport italiano in senso lato perché la strada verso Tokyo, la fotonotizia con Elia Viviani e Jessica Rossi. L'Italia ha indicato i due olimpionici di ciclismo e tiro a volo. Per la prima volta sarà una coppia a portare il tricolore alla cerimonia inaugurale dell'Olimpiade di Tokyo. La scelta è accaduta sulla tiratrice a volo Jessica Rossi che ricordiamo fu oro a Londra nella Trap nel 2012. Il ciclista Elia Viviani che vinse l'oro a Rio invece nell'omnium di ciclismo. Specialità su pista che racchiude a sua volta quattro specialità. E questa è la notizia che riguarda appunto i due portabandiera azzurri. Due, un uomo e una donna in base alla parità di genere promulgata dal Comitato Olimpico Internazionale. Lasciamo il Corriere della Sera. Andiamo già sulla Repubblica. Il tempo stringe. Vediamo solo il titolo d'apertura. Tassa sull'eredità e il no di Draghi a letta. Questa è l'apertura scelta oggi da Repubblica. Ci fermiamo. Pubblicità e poi la seconda parte della nostra rassegna stampa. Di nuovo buongiorno. Seconda parte della nostra rassegna stampa. Ci eravamo lasciati con la prima pagina della Repubblica. Il titolo d'apertura lo vedete. Leggiamo il segretario che il PD propone l'imposta sui patrimoni superiori a un milione. Serve una dote ai giovani. Il Premier è il momento di dare, non di togliere. Bocciata anche l'insistenza di Salvini sulla flat tax, blocco dei licenziamenti fino al 28 agosto per le aziende in cassa Covid. Per quelle aziende che entro giugno faranno richiesta appunto di cassa Covid. Poi le altre notizie che troviamo all'interno della prima pagina della Repubblica. Servizi segreti. Copasir, Comitato parlamentare di sicurezza della Repubblica. Vielle Chistavolpi. Scontro sulla Presidente. Ricordiamo il caso con l'opposizione di fatto Fratelli d'Italia che ne chiede la Presidenza come consuetudine. Le ombre calabresi sullo 007 Mancini. Il funzionario degli agenti segreti al centro dell'incontro con Matteo Renzi a Fiano. Ancora dalla Repubblica, Israele Hamas, accordo sul cessate il fuoco. Poi il reportage dell'inviato di Repubblica, Vincenzo Nigro, all'ho della città della convivenza. Ora è ferita. Anche Repubblica propone la notizia di Jessica Rossi e Elia Viviani che saranno in porta bandiera italiani a Tokyo. Giochi di coppia, due ori per il tricolore olimpico. Un'altra notizia intesa sulla redistribuzione migranti Parigi e Berlino con Roma. Lasciamo ora la Repubblica. Andiamo a vedere la prima pagina della stampa. Eccola qua. Crescita alla frusta di Draghi, così titola la stampa nella sua apertura ai premi a Gioia La Letta sulla tassa di successione. Questo l'abbiamo già letto. E sul Quirinale non ne parlo. Draghi, appunto, ieri nel corso della conferenza stampa, che gli chiedeva a proposito delle dichiarazioni del Presidente della Repubblica Mattarella che non vuole proporsi per un nuovo settennato. Draghi ha risposto in maniera secca del Presidente della Repubblica. Può parlare soltanto il Presidente della Repubblica. Ancora dalla prima pagina della stampa, l'analisi. L'Italia stanca, cerca il futuro di Mario De Aglio e poi retroscena. Ma il leader APD rilancia. Io guido la sinistra a proposito appunto della risposta. Questa è la replica alla risposta di Mario Draghi. Centropagina. Due fotonotizie, due immagini emblematiche. La mia luna eroina di Ceuta sbranata sul web per la sua bontà. Un abbraccio, un po' d'acqua. La cosa più normale del mondo. Luna Reyes, vent'anni, ha soccorso un ragazzo appena approdato sulla spiaggia di Ceuta. Si è scatenata la furia dei leoni da tastiera che le hanno rivolto insulti per questo gesto umanitario. Questo però è il mondo che viviamo. Federica, la divina stupice di nuovo. Mamma, sono ancora viva. Federica Pellegrini ha gli europei di Budapest. Conquista l'argento nei 200 stili. Insomma, si propone, tra l'altro è arrivata seconda veramente per una manciata di centesimi e quindi si ripropone fortemente anche per qualche medaglia olimpica ai prossimi giochi di Tokyo. Ancora dalla stampa svolta in Israele. Cessate il fuoco. La fine misteriosa del califo d'Africa. Il capo di Boko Haram, secondo alcuni, è stato ucciso. Secondo altri, si sarebbe suicidato. E poi un'altra notizia che arriva dagli Stati Uniti. Linciato dalla polizia. Vergogna in USA. Ucciso un altro nero. Un uomo di 49 anni che gridava, I'm scared, I'm scared, ho paura, ho paura. Insomma, c'è un video che è stato tenuto segreto perché il fatto risale a due anni fa e purtroppo si profila un altro caso, Floyd. Il messaggero. Il patto G20 a Roma. I vaccini ai paesi poveri. Summit dei grandi per un nuovo accordo sulla sanità globale. Questo è un titolo che chiaramente non è quello di apertura perché l'apertura anche il messaggero la riserva al decreto sostegni bis. Nell'ultimo decreto il governo prolunga lo stop per chi usa la cassa Covid. Draghi. Balso turismo. La crescita accelera e blocca letta sulla tassa di successione. Naturalmente anche qui la notizia della tregua. Gaza il sì di Israele. Al cessato il fuoco. Firmato Biden. Sisi dopo 11 giorni di scontri. E lancio di Razzi. La decisione in simultanea con Ammas. E poi il colpo di Jessica e la porta bandiera. Così il messaggero. Andiamo avanti. Diamo uno sguardo adesso al domani. Anche qui la scommessa di Draghi nella strettoia tra debito, inflazione e crescita. Il Premier sa che solo con le riforme il debito da crisi è sostenibile. Ma tra i partiti ci sono idee opposte. Scontro sulla proposta di Letta per la tassa di successione. Le riforme ricordiamo che sono state esplicitamente richieste da Bruxelles. Siamo sul giornale. Il giornale apre così. Ossessione patrimoniale. Sanguisuche a sinistra. Letta vuole aumentare le tasse di successione per creare una dote ai giovani. Draghi lo stoppa. bisogna dare, non prendere. Ma lui insiste. Sostegni dalle pensioni ai ristori. Ecco cosa cambia ancora Jessica e Delia. Porta bandiera. Il conformismo è fuori dai giochi. Medaglia al merito. Si parla di Green Pass. Da lunedì Italia in giallo e verso il bianco. Insomma i dati confortano la possibilità che si arrivi a questa situazione. Da lunedì l'Italia torna giallo e corre verso il bianco che potrebbe arrivare il 14 giugno. L'Unione Europea trova l'intesa per il Green Pass ma i tamponi si pagano. Boom di richieste di vaccinazioni over 40 in Lombardia. Lasciamo il giornale. Ecco il Fatto Quotidiano che propone questa foto, questa caricatura di Draghi, nelle vesti del Ressule, del governo dei ricchi. Oggi si dà e non si prende. Draghi non tassa eredità. Si appalti e licenziamenti liberi. Successione. Premere e spinge la tassa. Grandi opere. Torna la giungla d'appalto. Licenziamenti. Abolito il blocco totale di Conte. Cingolani. Ministro finto verde. Si inventa il mini nucleare. Questi titoli del Fatto Quotidiano. Vediamo Libero. Libero apre con un altro titolo. La verità sulla sfida tra Salvini e Meloni. Chi vince e dove. Sondaggio Ghisleri. Il nord a Matteo. Sud e isole a Giorgia. Forza Italia. Torna la Polverini. Ma c'è una scissione in vista. E poi Libero. Centropagina. Dalla notizia supportata da foto. I PM cambiano obiettivo. La famiglia Renzi ha processo. Genitori e sorella nei guai col fisco. Lasciamo anche Libero. Diamo uno sguardo alla Sole 24 ore. Naturalmente entra nel dettaglio tecnico di quelli che saranno tutti i provvedimenti contenuti all'interno del sostegno IBIS. Ecco le nuove misure. Fondo perduto. Aiuti per 15,4 miliardi. E naturalmente all'interno del Sole 24 ore. Un giornale ovviamente specializzato e specialistico. È possibile trovare tutti i dettagli, come dicevo, del sostegno IBIS. Diamo uno sguardo anche alla prima pagina di avvenire. Eccolo qui. Sostegno al futuro. Così avvenire, parafrasando il titolo di un famoso film degli anni Ottanta. Draghi col decreto investiamo sulla ripresa senza lasciare indietro nessuno. Letta propone la tassa di successione a favore dei diciottenni. Stop dal Premier. Intanto la fotonotizia che riguarda la tregua tra Israele e Gaza. Eccolo qui. Scatta una fragile tregua. È quello che scrive oggi a venire in edicola. Che si occupa anche del discorso relativo all'emergenza migranti. Che è tornata naturalmente forte, presente con l'arrivo dell'estate. La morgese della commissaria Johansson in missione ai paesi di partenza. Più rimpatri verso Tunisi. L'Unione Europea. Non vi lasciamo soli. Siamo praticamente in chiusura. Diamo anche uno sguardo alla Gazzetta dello Sport. Perché qui c'è il titolo che riguarda l'Inter. Ecco i soldi di Zanga che va avanti. Si parla della squadra che appena laureatasi campione d'Italia per la 19esima volta nella sua storia. Porta bandiera d'oro. Storica coppia per Tokyo. Viviani e Jessica Rossi. L'editoriale di Stefano Barigelli. Del direttore Stefano Barigelli. Scelta giusta nel segno del merito. Con questo è tutto. Io adesso vi lascio a Paolo Sottocorona per le informazioni sul meteo. E vi do appuntamento alla prima edizione TG La Sette alle 7.30. Grazie. Sì, buongiorno. Più o meno la linea che si era un po' vista nei giorni scorsi viene confermata questa mattina. Con l'Italia con zone diverse. Ovviamente diciamo che centro e sud non avranno grandi cambiamenti nelle prossime ore. Qualcosa invece al nord succede. Già questa mattina abbiamo più nuvole al nord come vedete rispetto al centro e al sud dove le nuvole sono particolarmente poche. Ancora non sono molto intense queste nuvole. non stanno dando precipitazioni. Infatti la prima cartina che ci dà le piogge complessivamente previste per tutta la giornata di oggi. Non abbiamo fatto prima parte e seconda parte perché non cambia molto. Vedete che su gran parte del nord c'è solo il grigio, vale a dire un cielo nuvoloso, spesso coperto, però con precipitazioni che si affacceranno queste sì nel pomeriggio, soprattutto sulle zone alpine e in parte prealpine. Al di là del confine, questo si era già visto anche nei giorni scorsi, c'è un tempo peggiore, fra Francia e Svizzera ci sono precipitazioni più intense. Ecco queste precipitazioni è confermato che domani e vediamo tutta la giornata di sabato entrano al nord, arrivano all'altezza dell'appennino tosco-emiliano. Vedete che in prevalenza abbiamo il colore verde, il colore verde significa piccolissime quantità di piogge, quindi giornate appena un po' piovigginose, con la fascia più settentrionale dove invece compare il blu di precipitazioni moderate, medie, quindi insomma non è una gran giornata, questo lo possiamo dire. Qualche nuvola sul resto del centro è assolutamente nulla al sud. Nella giornata di domenica questo moderato, lieve, leggero, maltempo del nord si attenua molto, compaiono anche delle schiarite, guardate fra Lombardia e Piemonte, però ancora questa fascia diciamo centro-orientale ha qualche pioggia, quindi è una giornata ancora piuttosto incerta. Qualche debolissima pioggia prende anche parte della Toscana, poi al centro-sodo arriva qualche nuvola, ma restano giornate assolutamente tranquille. Vediamo le temperature di questa mattina, questa divisione ci sarà anche nelle temperature nel corso del fine settimana. Intanto per oggi le minime al nord in qualche caso sono tornate al di sopra dei 10 gradi, hanno avuto un certo recupero per effetto anche appunto del cielo coperto che sapete fa salire o mantiene un poco più alte le minime. Sulle altre zone abbiamo valori molto simili a quelli di ieri. Chiudiamo con lo stato dei mari che sono piuttosto tranquilli, il celeste è un moto ondoso quasi a zero, su gran parte dei bacini centro-settentrionali. Quelli meridionali, vedete soprattutto lo ionio, magari a largo, ma potrebbe essere ancora agitato. I venti sono sempre con componente occidentale e in quella zona dove sono più forti ancora di maestrale, cioè nord-ovest. Se volete ci vediamo alle 7.55, adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale con Roberto Bernabai. A più tardi.